Pensiero del giorno. Ovunque io vada benedico in silenzio tutti quelli con cui vengo in contatto e anch'io ricevo questi doni. Le mie benedizioni provengono dallo spirito che collega tutte le persone e le cose. Benedici tutti in silenzio. Oggi mentre cammini in mezzo alla gente invia benedizioni e amore. Queste preghiere silenziose non necessitano che tu dica qualcosa. La loro efficacia deriva dalla tua decisione di rivolgere benevolenza a ogni persona che incontri. Queste benedizioni possono venire dal cuore, dalla mente o dalle mani. Qualunque modo tu scelga per inviarle è efficace. Osserva come ti senti mentre lo fai. Oltre alla gioia di donare amore potresti avvertire un senso di affinità con chi lo riceve. Sappi che oggi sarai tu a ricevere il miglior numero di benedizioni e amore perché i doni che dai ti vengono restituiti in quantità. Grazie a tutti.